si mescolano agli uomini a Camp Leiki, un centro di studi nella foresta tropicale. Nessun insegnamento viene dato agli orangutan in quanto lo scopo del centro è quello di riportarli alla vita selvatica. Nonostante questo, ogni giorno le scimmie partecipano alle attività del centro. Nessun insegnamento viene dal centro. Questo esemplare sembra abbia imparato a lavare. Forse però la sua è semplice imitazione. Si tratta di imitare senza capire o è apprendimento per imitazione? Un esempio di vera imitazione potrebbe realmente richiedere che la prestazione dell'animale, anche se non al primo tentativo, sia simile a quella di un attore. In assenza di una prestazione immediatamente buona, la possibilità che l'animale stia semplicemente applicando il metodo basato su tentativo ed errore attraverso un oggetto su quale è stata portata la sua attenzione rimane aperta e non si può parlare di una nuova forma di apprendimento. Alle Hawaii, il professor Hernan e i suoi colleghi hanno studiato i delfini per scoprire se sono in grado di capire quello che vedono e di imitare un'azione sin dalla prima volta in cui la osservano. Nell'esperimento, il delfino di sinistra compie un'azione che l'altro delfino deve imitare. Il primo riceve istruzioni attraverso il linguaggio dei segni. Il pannello blu evita che il secondo sbirci le istruzioni impartite all'altro. Il delfino è in grado di imitare perfettamente l'altro? La risposta è inequivocabile. I delfini capiscono quello che vedono e sono in grado di imitarlo al primo colpo. Cosa interessante, il delfino è in grado di imitare un essere umano che può agire da modello nell'acqua, proprio come ha fatto l'altro delfino in precedenza. O può essere sul bordo della vasca ad eseguire, per esempio, pirouette, abbassare e alzare la testa, scuoterla da una parte e dall'altra, alzare una gamba in aria. Tutte cose che il delfino imiterà riportando la propria immagine alla nostra. Anche se le due strutture corporee sono diverse. La coda è percepita quindi in analogia alle nostre gambe. Cosa? 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 Cosa?